Benvenuti a questo unboxing che mi è arrivato adesso dai nostri sponsors vediamo un po' che cosa c'è qua ah mi raccomando ragazzi pescare show bisogna esserci domenica sarò lì, ciao ragazzi vediamo il primo questo è pesissimo bello 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 le super forbizzine figo perché ultimamente prendo molti predatori con le pinzette bello mi piace e questo è uno buttiamo via questo poi andiamo col secondo vediamo un po' cosa abbiamo ecco questo sono abbastanza convinto che farà la differenza che devo che fosse più grosso interessante interessante i miei bass godranno di brutto e questo è un altro poi tagliamo ecco anche questa cosa qua un crack piccolino eh però anche questo secondo me farà di mer che colorazione ragazzi guardate qua guardate qua pesissimo colorazione pesissima proprio ma questo lo tengo come porta fortuna è bellissimo poi anche questo è calzato via poi andiamo col prossimo eccolo eccolo quello bello questo qua ma ma stuzzicato l'idea perché è galeggiante e ruotea questo fa di brutto ragazzi quando sono intatta con le superficie questo devo provarlo assolutamente per i luci io abbiamo l'ultimo oggi ho spaccato ecco questo qua è una cosa che non ho mai usato la gomma abbinata la gomma abbinata questo e anche questo qua secondo me è decisamente bellissimo guardate qua mi raccomando iscrivetevi al canale ragazzi per essere sempre aggiornati sulle novità di full timer pesca mi raccomando ci vediamo a Vicenza domenica non mancare